La Francia ha chiesto a Israele di cessare senza indugio l'operazione militare a Rafa. La rischia di creare una situazione catastrofica per la popolazione della striscia di Gaza. Lo ha affermato il Ministero degli Esseri in un comunicato diffuso su X. La Francia ha chiesto a Israele di cessare senza indugio l'operazione militare a Rafa. La rischia di creare una situazione catastrofica per la popolazione della striscia di Gaza. Lo ha affermato il Ministero degli Esseri in un comunicato diffuso su X. La Francia ha chiesto a Israele di cessare senza indugio l'operazione militare a Rafa. La rischia di creare una situazione catastrofica per la popolazione della striscia di Gaza. Lo ha affermato il Ministero degli Esseri in un comunicato diffuso su X.